Ciao a tutti, oggi prepareremo la polenta. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di mais bramata, acqua, sale grosso e olio evo. Diamo e via la ricetta. Mettere nel boccale l'acqua, il sale e l'olio. Ritazioniamo il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 2 e dal foro del coperchio a cucchiaiate metteremo la farina di mais. Inseriamo la spadola ed amalgamiamo. Mescoliamo a fondo con la spatola. Chiudiamo il bimbi, lasciamo la spatola inserita e azioniamo il bimbi per 40 minuti, 100 gradi, velocità 2 e mescolando di tanto in tanto con la spatola. La polenta è pronta, trasferiamola in uno stampo in un tagliere di legno. Lasciamo intiepidire e servire. Polenta, grazie e alla prossima ricetta. Polenta, grazie e alla prossima ricetta. Polenta, grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.